All'efficinale resta un po' di rammarico soprattutto per quello che non si è riusciti a fare nel primo tempo. Certo, è stata una partita molto difficile, abbiamo cercato di creare qualcosa, però non siamo riusciti a arrivare puliti sulla tre quarti. Però comunque il pallino del gioco nel primo tempo lo avevamo, però non siamo mai stati veramente pericolosi. La gara è stata aperta da un episodio, da una protezza balistica però un episodio. Sì, oggi l'episodio ci è andato contro, ha fatto un euro-goal l'iteri e da lì in poi la partita era ancora più difficile. Abbiamo provato fino alla fine di portare a casa qualcosa, però oggi non ci voleva andare bene. Tutto sommato c'è stata però una forte reazione sotto 3-0, siete riusciti a rimetterla, a riaprirla? Sì, peccato che siamo andati sul 3-0, se no magari potevamo portare a casa qualcosina in più. Adesso dobbiamo cancellare questa partita in fretta e guardare avanti, abbiamo ancora due partite a giocare, poi si vedrà dove andiamo a finire. Anche perché hai dimostrato che non ci sono certezze. No, assolutamente no, nel calcio può succedere di tutto, ci è andata male oggi, però come già detto ci sono ancora due partite a giocare, rimaniamo là mentalmente sempre presente e poi vediamo.